Un cerchio rosso su sfondo bianco, all'interno la scritta Silli Comprato, moderati. Punta sui colori tradizionali della città, il blu e il rosso, il simbolo con cui la lista Silli si prepara a correre per le amministrative a sostegno del candidato di centrodestra Gianni Cenni. Una formazione animata dall'attuale sottosegretario agli esteri Giorgio Silli, cui dettagli saranno svelati solo nelle prossime settimane, ma che punta a raggruppare tutte le forze moderate alternative alla sinistra. Questo è un dovere assoluto verso la mia città, verso la nostra città e verso Gianni, che è veramente la candidatura giusta, con la giusta esperienza amministrativa, la giusta cultura e soprattutto la giusta esperienza politica. Il fatto che in città circolasse con insistenza il mio nome faceva pensare a una cosa sbagliatissima, cioè che il centrodestra pratese potesse esprimere solamente un nome. E non è così. Il centrodestra pratese ha una classe dirigente preparatissima, ha esperienza amministrativa, sia all'opposizione tanto quanto in maggioranza. La prima volta nella storia di Prato, Prato esprime un membro di governo che non è di sinistra. Per quale motivo io avrei dovuto dimettermi e privare la nostra città di un contatto diretto con il governo nazionale? Io sono sicuro che Gianni vincerà, e anzi vinceremo perché siamo una grande squadra insieme a lui, e che il combinato disposto sindaco, membro di governo, con la coalizione, i consiglieri comunali e i nostri parlamentari, potranno dare a Prato quella benzina di cui ha bisogno per risorgere dalle ceneri un po' come l'Arabia Fenice. 32 nomi che faranno parte della lista, anche civici. Arriveranno colpi di scena, promette l'Onorevole, che con il suo gruppo di lavoro ha raccolto anche l'appoggio dell'Udc. Sabato 16 marzo, a partire dalle 9.30, alla Camera di Commercio di Prato, il primo grande appuntamento, la conferenza programmatica della coalizione che sostiene Cenni, un confronto che servirà a delineare il profilo di temi e proposte su cui verterà il programma elettorale. Una conferenza programmatica perché al di là del flusso elettorale del momento, l'elettore ha tutto il diritto di capire qual è la visione del centrodestra e di Gianni Cenni per il futuro di questa città. E poi non la chiamiamo coalizione di centrodestra, chiamiamola coalizione alternativa al sistema di potere pratese, perché credo sia il modo più giusto per definire la squadra che porterà Gianni Cenni alla vittoria.